Sei un imprenditore attento all'ambiente e vuoi fare un regalo ai tuoi collaboratori o ai tuoi clienti? O più semplicemente vuoi lasciare un segno tangibile nel mondo piantando un seme di vita che ricordi il vostro impegno aziendale per un futuro migliore? Potete far parte anche voi del progetto Bosco dei Ricordi. Con il pacchetto Business avrete 10 piante di altezza garantita di un metro. Ognuna con una targa personalizzata con una vostra dedica e il vostro logo ed inoltre riceverete un elegante pergamena. Per scoprirne di più clicca su Scopri di più e visita il nostro sito.